Grandissimo rialzo di Fiat che esplode e fa il 9%, quasi il 9% in un'unica seduta. Cosa è successo? Cosa è successo all'accordo e alla fusione con PSA, la megacasa francese che ha Opel e Peugeot tra le altre cose, e che insieme a FCA formerà il quarto aggregato più grande in termini di volume nel settore automobilistico. Quindi andiamo a vedere un po' che cosa è successo, perché effettivamente qualcosina è successa. C'è questo maxidividendo che deve essere pagato da FCA agli azionisti prima del closing, c'è un grande ribattito e andiamo a vedere un po' che succede, soprattutto se questo è il momento giusto di tenere in considerazione Fiat, entrare in Fiat, FCA, comprarla, oppure un altro approccio che vi dirò che sarà il mio approccio per quanto riguarda il titolo. Insomma ragazzi un like se questo video vi è piaciuto e se sono interessanti per voi video sulla borsa italiana, su Piazza Affari, fatemelo sapere, con un like, con un commento, iscrivetevi al canale, ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao! Che botto che ha fatto Fiat, ha fatto il più 9% con un gap incredibile, questo è il momento di comprare, è troppo tardi, cosa bisogna fare? Salve a tutti, Marco Casario qui, andiamo a fare un po' di chiarezza su quello che è successo ieri nella sessione di Fiat, ragazzi, sessione estremamente rialzista, guardate qua che gap, il prezzo praticamente ha, dopo aver chiuso con la candela molto soffice, chiamiamola così, del 14 settembre di lunedì, dopo essere riuscita a passare con la candela di giovedì e venerdì al di sopra della media 200 periodi, quindi altro segnale importante, apre con questo gap e chiude praticamente quasi al 9%, riportandosi ai valori al di sopra dei 10 euro, siamo, ha chiuso ieri circa, adesso vi dico quant'era la chiusura esatta della candela di ieri, ha chiuso a 10,88. Oggi sembrerebbe stia in maniera molto più fiacca, continuando un piccolo pezzetto rialzista, fa in realtà un più 0,26%, ma che cosa è successo? Andiamo a vedere dal punto di vista, prima di tutto ragazzi, quando succedono queste cose, guardate anche i volumi di accompagnamento qui sotto che ci sono stati con la candela di ieri, veramente volumi inusuali, che sono quelli che poi mi hanno fatto subito accendere il mio allarme, il mio radar per andare a vedere cosa succedeva. Allora dal punto di vista fondamentale sapete c'è questa fusione, questa fusione ne ho parlato anche sul mio canale Instagram, se non mi seguite fatelo su Determino 3, perché durante il giorno pubblico parecchi aggiornamenti su quello che succede, e avevo pubblicato questo aggiornamento parlando proprio della fusione tra FCA e PSA, PSA ragazzi è il colosso francese che ha Peugeot e Opel, tra le altre cose, e quindi nascerà da questa fusione Stellantis, che sarà il quarto più grande costruttore automobilistico al mondo, in termini di volumi, quindi veramente un gigante stanno formando, e il titolo è volato, è volato per quale motivo? Perché c'è stata una revisione dei termini, ragazzi, di questa fusione, e questi termini sono cambiati in quanto c'è stato, si fa parlare di questo maxidividendo, no? Che cos'è il maxidividendo? È quello che FCA dovrà pagare agli azionisti prima del closing, che inizialmente era stato stabilito come un dividendo da 5,5 miliardi, e è stato ritoccato a 2,9 miliardi, ok? E in realtà è stato poi anche rivisto un po' il 46% detenuto da PSA in Faurecia, che a questo punto sarà distribuito agli azionisti di Stellantis, dopo che ovviamente ci sarà stato effettuato il closing. Questa notizia ha fatto decollare il titolo, ok? Però attenzione ad una cosa, questo potrebbe essere un evento unico, cioè questo gap che c'è stato e questo rialzo che c'è stato, è stato appunto a questa notizia del maxidividendo straordinario che dovrà essere pagato, e soprattutto quello che è avvenuto ieri, stavo notando, è stato completamente colmato questo gap. Questo gap era un gap importante, fatemi mettere un po' qui le linee orizzontali, era partito qui e si era praticamente concluso qui, quindi vedete che il gap che c'è stato con la candela di ieri ha portato la chiusura delle candele al di sopra di questo gap, quindi questo gap è stato riempito, c'è stato il fill the gap è avvenuto, quindi per me questa è già una importante notizia per considerazione, per capire se il prezzo avrà ancora la forza di continuare a rialzo oppure rientrerà, cioè dopo aver colmato questo gap, vedete qua, rientrerà all'interno di questo canale, si riappoggerà sotto. Adesso c'è un altro gap effettivamente che dovrà essere tenuto in considerazione, ve lo faccio vedere qua, e che è stato proprio il gap quello del 21 febbraio, ragazzi, quando poi è successo tutto quello che conosciamo bene. Quindi qua il prezzo incontrerà altre due resistenze importanti, qui, tra gli 11,60 e i 12,12,05, quindi diciamo i 12 che è anche una soglia psicologica, e la vera domanda è se Fiat riuscirà, se il titolo riuscirà a ritornare ai massimi precedenti, ai massimi, intendo dire, scusate, ai livelli di prezzo in cui stava prima che crollasse tutto quanto. Io ho un po' i miei dubbi, perché questo recupero del gap è un primo segnale di analisi tecnica, sì, è vero che il prezzo si è portato sopra la media a 200 periodi e si è portato anche sopra qui ai 10,80, però è anche vero che quello che c'è stato ieri è stata semplicemente una grande volatilità e grandi volumi momentanei. Mi aspetto che quando usciranno le nuove trimestrali, qui parliamo del 27 ottobre, quindi manca un mesetto, e le trimestrali, ragazzi, difficilmente sia di Fiat che di Peugeot saranno positive, potrebbe essere questo un problema. Quindi, questo per dire che cosa? Attenzione, valutate molto bene se pensate di fare un acquisto adesso su Fiat Chrysler, pensateci, andate a capire, innanzitutto, qual è l'orizzonte temporale del vostro investimento, in primis, e in secondis, quello che può essere l'entrata al prezzo più corretto. Quindi, pensate se il prezzo possa stornare un pochino dopo questi grossi volumi, o se pensate possa continuare a rialzo. Io oggi ne discuterò nella Trading Room, a dire il vero, perché ritengo che questa potrebbe essere un'opportunità da giocarsi, non mi piace mai usare il termine giocarsi, da approcciare con le opzioni, perché invece le opzioni potrebbero essere importanti, potrebbero essere interessanti. E che cosa sto pensando di fare? Visto che la volatilità è stata alta, se ancora è alta, potrei pensare di vendere una call. Quindi, diciamo che la mia visione potrebbe essere non rialzista del prezzo, che devo scegliere molto bene lo strike e la scadenza, e questi ragionamenti li farò oggi nella Trading Room con gli studenti per vedere quanto pagano, però potrebbe essere interessante mettersi intorno a questi valori qua. Ok? I valori che vanno dai 12 euro ai... insomma, sotto i... diciamo, intorno ai 12,75. Questa potrebbe essere un'area interessante per vendere delle call. E attenzione che vendere delle call nude è rischioso, perché si rischia di perdere molto, quindi ci si potrebbe proteggere comprando una call, facendo quindi un vertical. Questa volta però un bearish vertical, perché si ha una visione non rialzista, ricordatevelo. Quindi questa potrebbe essere una modalità per andare ad approcciare questo titolo. Io non ho intenzione quindi di comprarlo a questo prezzo, ma questo è un mio approccio estremamente conservativo, non è assolutamente un consiglio finanziario. Volevo farvi anche notare un'altra cosa. Qui si era formata una trendline molto interessante, ve la disegno. Guardate qua che bella trendline su cui il prezzo è andata ad insistere davvero davvero tante volte. E poi aveva formato questa, potrebbe essere questo un rounding bottom, eccolo qua. È solo che la rottura di questo rounding bottom c'è stata praticamente con questo grande gap, quindi non c'è stato proprio modo per andare ad applicare. Qui magari io mi aspettavo di vedere un cap and handle. Quello che avrei voluto vedere dal punto di vista tecnico era il formarsi di un cap and handle, cioè il prezzo che tornava ad abbassarsi e a insistere su questa struttura qui, per poi magari fare un breakout a rialzo. E allora avrei potuto intorno ai 9,70, 9,80 valutare un'entrata per uno short term trade, ma non si è verificato, si è aperto con il gap, quindi la mia possibilità è sfumata. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questo titolo. Lasciatemi qui sotto un commento. Un like se questo video vi è piaciuto. Fatemi sapere se volete più video sul mercato italiano, sulla borsa italiana, perché sono molto concentrato io sulla borsa americana, perché è dove concentro la stragrande maggioranza dei miei investimenti, soprattutto quando penso alle opzioni e al mio portafoglio, però se vi interessa anche il mercato italiano ne possiamo assolutamente parlare. Concludo, guardando, scusate, vi voglio tracciare anche quest'altra trend line. Eccola qui. Questa è un'altra trend line importante, perché vedete che il prezzo l'ha usata molto come resistenza, ha provato a fare qua un breakout, ma è rientrato, e adesso è interessante vedere quindi se il prezzo si manterrà sopra a questo canale dinamico o se invece rientrerà dentro. Bene, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati, ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!